Vuoi dire veramente avere tanti di quelli che sono, ma è qui con noi oggi pomeriggio, domenica in, niente, po' po' di meno che... Tom Jones! Black Betty! Bama Lam, where's she shake that thing? Bama Lam, where's she make me sing? Bama Lam, whoa, Black Betty! Bama Lam, she ready to get me high? Bama Lam, you know that's no lie! Bama Lam, she's so rock steady! Bama Lam, she's always ready! Bama Lam, whoa, Black Betty! 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 Bama Lam, bam! Grazie a tutti. 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 molto 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 felici di averti qui oggi pomeriggio per noi è una domenica meravigliosa avere un grande interprete you are my tu sei il mio mito oh thank you very much e grazie tantissimo can I have a little kiss? oh of course Siki ma è vero che tu hai cominciato a cantare in chiesa? yes why? why? perché? era un posto dove si poteva cantare cantavo a scuola e di domenica cantavo in chiesa e chi per prima come donna ha amato la tua voce? your mother? quale donna? quale donna? da quando era piccolo? quando ero piccolino erano bambini ragazzini a scuola ma poi mia madre andava in un circolo verso le donne e mi portavano sì mi portavano lì ed ecco che lì cercavo di cantare e cantavo per queste signore per questo circolo tu sei nato in un piccolo villaggio dal Galles sì sì è così pensavi che saresti diventato una star internazionale che tutto il mondo avrebbe ascoltato la musica la voce di Tom Jones quando eri a Little Baby beh ho sempre saputo di avere una voce molto forte e quindi quando cantavo alle feste ai matrimoni tutti mi dicevano lui diventerà una star una stella e allora ci ho creduto senti Little John a chi devi dire grazie nella tua vita ma il grazie di cuore yes God beh Dio il signore Don Massi hai capito? sono qua my friend Little Tony is your friend Little Tony eccolo qua Little Tony quando vi siete incontrati voi? quando vi siete incontrati? molti anni fa in Inghilterra lui è sempre uguale sì non cambia mai sempre benissimo è sempre un aspetto con il tempo digli che lui con il tempo migliora oh you think so? la pensi così? God bless you che Dio ti benedica we have a little surprise for you yes here now Little Tony for you yes a little surprise sì vai maestro Massa grande non è normale che se non ha così uno qualunque che sta con te solo perché c'è una ragazza per non essere niente più il mio che stiamo sentate Grazie a tutti 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 Grazie a tutti